Non si poteva immaginare che fosse così pericolosa quest'area, questo ex cementificio? No, francamente no. Ha stupito un po' tutti che fosse così tanto rilevante la quantità di materiale così pericoloso. Una bomba ecologica ancora più pericolosa di quello che già si poteva pensare è l'ex cementificio Sacci, che si trova a Corsalone, al confine tra i comuni di Bibbiena e Chiusi della Verna, nella valle del Casentino. Dopo il sequestro del settembre 2016 sono partite le operazioni di messa in sicurezza. Nei 18 accessi che sono già stati effettuati sono state rimosse circa 30 tonnellate di amianto, materiale friabile e quindi altamente inquinante. Esatto, è una frazione volatile quella che poteva essere messa in circolo con maggior rischio e quindi la fase di messa in sicurezza ha riguardato essenzialmente questo materiale. Il proprietario dell'area, Marino Franceschi, imprenditore del grande insediamento Marino Famercato, aveva presentato anni fa una proposta di demolizione dell'intero stabile al comune di Bibbiena, con l'intenzione di trasformare l'area in un grande centro commerciale, ma la richiesta non ebbe seguito e il progetto andò in fumo. Ora la priorità è la messa in sicurezza dell'area. Sì, lo smaltimento definitivo richiederà ancora altri interventi. Possiamo appunto dare questo segnale di rassicurazione per la comunità locale, appunto che almeno le parti volatili, quelle che potevano essere più direttamente e immediatamente pericolose, sono state portate via.